Si chiama Pikachu. Ah, è così tenero, sarà il migliore di tutti. 10 gennaio del 2000. Su Italia 1 va in onda la prima puntata di un cartone animato che cambierà per sempre la storia degli anime in tv, i Pokémon. Parla di Ash Ketchum, un ragazzo di Biancavilla il cui sogno è quello di diventare il miglior allenatore di Pokémon del mondo. Nel giorno del suo decimo compleanno, Ash va dal professor Oak, massimo esperto di queste creature, per ricevere il suo primo Pokémon, ma arriva in ritardo. Lo scienziato aveva ormai distribuito tutte le creature agli aspiranti maestri e per Ash ne rimane solo una, Pikachu, un Pokémon testardo e capriccioso, con cui inizialmente non va molto d'accordo. In seguito però, i due diventeranno inseparabili e vivranno insieme tante avventure, tra combattimenti e incontri con nuove creature da catturare per battere i loro rivali. È stato questo il momento in cui, almeno in Italia, i Pokémon hanno smesso di essere un gioco per i Game Boy e sono diventati la maggior ossessione dei ragazzi degli anni 90. Ma come ha avuto inizio tutto questo e chi è l'inventore dei Pokémon? Satoshi Tajiri ha raccontato che da piccolo si divertiva a giocare con insetti e girini, che amava catturare nei pressi della sua casa nella periferia di Tokyo. Da questo suo passatempo nacque l'idea di un gioco in cui i bambini potessero catturare delle creature, per far provare loro le stesse sensazioni che provava lui quando era piccolo. Tajiri inizia a sviluppare videogiochi e con un gruppo di amici fonda la Game Freak. Il primo videogioco si chiama Capsule Monsters, che viene proposto a vari brand, però senza successo. L'idea dei Pokémon nacque nel 1990, ma Tajiri ci lavorò per quasi sei anni. Tajiri propose alla Nintendo il suo game design e l'editrice ne restò colpita, intravedendo anche la possibilità di rivitalizzare il Game Boy, un sistema che già aveva da qualche anno, ma che era in una fase di stallo. Alla fine, Nintendo decise di finanziare il progetto. E quando Tajiri vide il nuovo Game Boy, lo ritenne la piattaforma perfetta per il suo nuovo gioco dei Pokémon, dove esseri viventi potevano passare da un dispositivo all'altro attraverso il cavo Game Link. E infatti, se ben ricordate, i primi due Pokémon, versione rossa e versione blu, dovevano per forza interagire fra due Game Boy per completare tutto il gioco al 100% e catturare tutti i Pokémon. Eppure, il primo Pokémon mai disegnato non era né Pikachu né Charizard. Il disegnatore Ken Tsuchimori ha chiarito che il primo mostriciattolo mai disegnato era una bozza di Raidon, Pokémon di tipo Terra-Roccia, che si evolve da Raiorn. Da Capsule Monsters, il nome del videogioco diventa prima Pocket Monsters e poi viene contratto in Pokémon. I primi due videogiochi vennero pubblicati in Giappone a febbraio del 96, con i nomi Pocket Monsters Rosso e Pocket Monsters Verde. In Occidente però arrivarono solo a settembre del 98, con i nomi di versione rossa e versione blu. Lo scopo del gioco era accompagnare il protagonista Ash nella sua caccia ai Pokémon, per aiutare il Professor Oak a completare la lista dei 151 mostri della regione di Kanto, cercando di battere il rivale blu, vicino di casa di Ash e nipote dello scienziato, al quale era stato affidato lo stesso compito. Dopo i videogiochi è stato realizzato un gioco di carte collezionabili, uscito sul mercato nell'ottobre del 96 e diventato ben presto un cult. La Nintendo ha poi continuato a pubblicare nuovi giochi con i personaggi dei Pokémon, arrivando perfino a superare i 30 titoli. I Pokémon possono essere allenati per combattere tra loro. Si potrebbe quindi pensare che siano giochi di lotta, ma non è del tutto corretto. I Pokémon, infatti, non vengono feriti e non muoiono durante gli incontri. Se vengono sconfitti, si stancano e perdono conoscenza, rendendoli inutilizzabili per le battaglie successive, un aspetto fondamentale del franchise dei Pokémon che li rende non violenti e adatti a tutti i bambini. Nei primi due videogiochi i Pokémon erano 151. Man mano che venivano catturati, venivano classificati nel Pokédex, un'enciclopedia elettronica che raccoglie tutte le informazioni su queste creature elaborate dal Professor Oak. Oggi, a quasi 30 anni dall'inizio della saga, questo enorme database contiene ufficialmente circa 898 Pokémon, una lista che è destinata a espandersi ulteriormente con le creature che verranno introdotte per le prossime generazioni. Dopo il grande successo della serie animata, nel 98 viene prodotto il film Mewtwo colpisce ancora, il primo lungometraggio della saga. Da allora ogni anno è uscito un nuovo episodio. Tutti hanno come protagonista Ash e i suoi amici, e in ciascun film è presente almeno un Pokémon leggendario o misterioso. Ad oggi i film dei Pokémon sono 23, ma a questi bisogna aggiungere dei cortometraggi e speciali televisivi. Uno fra tutti, Pokémon Chronicles. Il successo planetario dei Pokémon è riesploso nel 2016 con l'uscita dell'app Pokémon Go per iOS e Android. Si gioca tramite una mappa e grazie alla fotocamera del proprio cellulare, l'app per trovare i Pokémon consente di simulare la presenza delle creature nell'ambiente circostante. Insomma, non c'è dubbio che i Pokémon rappresentino un franchise destinato a non morire mai. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono i Pokémon, se ci avete giocato quando eravate bambini e se avete collezionato le carte, iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è a creazione, e seguiteci su Facebook e Instagram, dove tutti i giorni raccontiamo news, aneddoti e storie sul favoloso mondo del cinema e delle serie tv. Al prossimo video!